Campionato di eccellenza, ormai pronto alla ripresa, dopo la lunga pausa natalizia e il prolungamento della sosta a causa dell'emergenza Covid, con Lanciano, che senza sosta anche lui continua a sfogliare la Margherita, che rischia di restare senza petali, col nuovo allenatore tra color che sono sospesi. Qui si tratta di Platini, è un giro un po' complicato, ma lo sa che attraverso l'eccezione di Falchetti e Mengoni, non riusciamo ad avere la metà di Giordano da girare all'Udinese per un quarto di Sico e tre quarti di Edigno, con cui... Bolotti! Beh, dopo glielo spiego meglio, mi aspetti al bar. Dopo l'esonero di Mister Bellè, che ha pagato ultimi risultati deludenti, ma soprattutto divergenze più caratteriali che tecniche col patron d'oltreoceano Max Pincione, inutili gli attestati di stima di squadra e tifoseria, tutte insieme a difesa dell'allenatore, in due settimane si sono alternati almeno dieci nomi di papabili, ideali al caso rosso-nero. Ogni nome è stato poi avvicendato da un altro, nel giro di poche ore, nel classico balletto che non lascia presagire nulla di buono. Allenatore vicino alla firma oggi, allenatore lontano domani, ma con altri grossi calibri all'orizzonte. Unica consolazione la figura del neopreparatore atletico già operativo, Lorenzo Caporusso, un passato alla primavera del Pescara. Grave e purtroppo seria, la vicenda assume i contorni di una barzelletta che non fa ridere, soprattutto perché riguarda il lanciano e i colori rossoneri, una storia gloriosa che merita chiarezza insieme al suo popolo. Il DS Tonino Dorazio ci sta mettendo tutta la sua buona volontà, ma a quanto pare gli umori di Max Pincione sarebbero difficili da gestire, come quelli di una donna mestruata. Lui in videoconferenza detta legge vuole un uomo al comando che sia aziendalista, professionista, capace e ambizioso, non critichi le scelte che piovono dall'alto, sia contenti e sorrida e la panchina resta vuota. La margherita è arrivata all'ultimo petalo e se son rose fioriranno, ma occhio le spine che potrebbero far molto male ad una piazza che hanno usato da tempo, che qualcosa qui non quadra e non è profumo, ma puzza di bruciato.